questo video è stato gentilmente sponsorizzato da Yeppoda Yeppoda è un brand di skin care coreana che io adoro e oggi vi voglio mostrare in azione, anche per sentire il suono dei prodotti must have per l'estate di Yeppoda e che mi aiutano ad avere una pelle pulita e luminosa la base per avere una bella pelle anche d'estate è detergerla al meglio e quindi fare la doppia detersione questi sono i due prodotti di Yeppoda che utilizzo per fare la doppia detersione prima vado con il DeGalm Palm ma sono stupenda vado a bagnare questo leggermente con l'acqua in modo a formare un'emulsione ora che ho sciolto tutto lo sporco e il make up vado a sciacquarmi amo anche la sua morbidezza sulla pelle vado bene anche i nodi del viso, importantissimi e ora dopo tutti questi semplicissimi step la pelle proprio me la sento stra 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 pulita ed è importantissimo avere proprio la base di pelle pulita prima di fare skin care, prima di truccarsi, prima di tutto un altro prodotto che d'estate, in generale sempre amato è stata una vera coccola non può mancare, è il The Mist questo è un tonico che contiene anche acido ialuronico e in spray risulta piacevolissimo da applicare ma si può usare non solo come tonico ma anche come vissante per il make up e durante la giornata come spray per rintrascarsi e ora una chicca per l'estate lo dico, questo è uno dei miei prodotti preferiti in assoluto di Eppoda non è neanche la prima confezione che conosco, io saluto quasi alla fine i patch occhi di Deeper Eye Espresso i patch occhi in gel che io metto in frigo e tengo sempre in frigo che non solo risvegliano lo sguardo perché contengono caffeina quindi se avete dormito poco, magari per il caldo perché avete passato la serata fuori lina tardi, queste sono perfette e poi tenendoli in frigo vi rinfrescano il contorno occhi in una maniera super soddisfacente quindi due in uno ecco qua anche un codice sconto per voi del 20% che è Chiara Summer Chiara Summer io spero di avervi incuriosito e convinto a provare questi prodotti vi lascio il link di Eppoda, il mio codice sconto c'è in descrizione ringrazio ancora Eppoda per aver sponsorizzato questo video e ora passiamo al video ciao ciao hai caldo? lo so comincia a fare caldissimo in casa, fuori, ovunque quindi vengo in tuo soccorso e oggi voglio provare a raffreddarti il più, il più, il più possibile ok? quindi spero davvero che tu riesca a percepire la freschezza in questo video e che tu riesca a percepire il ghiaccio, il fresco, il mento gelido sulla sua pelle in contrasto con il cad con il cad per prima cosa vorrei andare a legare i capelli io ce li ho sciogli solo perché sono bagnati, dopo penso che li leggerò anch'io ho anche questo pettine leggermente umido in modo da bagnarti leggermente i capelli ma molto poco non ti preoccupare ok, allora fammi fare prima vado a portarti lì dietro anche di lato ok, mi è andata una coda un po' più ordinata ok, adesso tengo un attimo così, prendo questo elastico ok, perfetto, secondo me è abbastanza stabile, non sono bravissima a farla con gli altri, ma mi sembra abbastanza stabile ok, 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 un attimo qui ok, dito giusto una rinfrescata, poi faremo le cose sul serio prima volevo un attimo asciugarti il sudore che magari è qui sulla fronte, qui sulla, però insomma il sudore classico che è normalissimo per l'estate ok, mi avvicino un attimo ok, qui sulle labbra sotto il naso, un po' anche qui vedo l'attaccatura e anche un pochino dietro ok, che non fa bene dopo asciugare e far diventare il sudore freddo adesso per te ho preparato un piccolo menù che ho proprio progettato io, disegnato io ci sono sia delle bevande, sia degli snack freschi, fra cui scegliere, puoi scegliere tutto quello che vuoi provate a farlo il più carino possibile allora per le bevande abbiamo, possiamo avere un mazzolatte un classico cappuccino alla vena un iced coffee questa è una mia specialità espresso classico e un cioco mugaccino molto buono e come bevande invece diverse, diciamo senza caffè abbiamo la limonata de coco che è una bevanda colombiana praticamente è un succo di limone con dentro del latte di coco cos'è quello pannoso e tutto ghiacciato molto buono tè alla pesca e menta succo al mango e dell'acqua di cocco direttamente con il di cocco sì, non sempre piace però mi piace adorirla e come snacks posso avere dell'anguria fresca posso avere un gelato al cioccolato i mirvilli e uno stick invece al caffè anche quello di mirvilli e cioccolato non è uno stick ok, intanto ti apro qualcosa da bere ok, dimmi pure sì, esatto di quelli con il ghiaccio c'è la limonata de coco se vuoi il tè l'ice coffee e anche volendo il mozzolatte ok scelta perfetta vedi che mi è buonissimo il mio iced coffee è fatto con latte di mandorle italiano con mandorle italiane guarda che bello è di questa marca Condorelli ed è proprio quello che si usa al sud per fare il caffè ghiacciato bello fresco latte, latte, latte di mandorle ovviamente per prima cosa ci vuole il ghiaccio anche qui deve rifare quel suono non lo voglio far scaldare troppo quindi vado a metterlo direttamente nel bicchiere tiriamo fuori ghiaccioli non lo voglio far scaldare quindi i azzu latte di mandorla e ovviamente del caffè fratto trovo veramente ipnotico guarda che il caffè che pian piano si mescola nel latte faccio un attimo amalgamare il tutto e quindi non ho messo nessun aroma perché il caffè l'ha già aromatizzato, leggermente vanigliato un po' di caramello, secondo me è veramente buono, quindi annusa prima e poi adesso bevi con calma perché comunque è una bevanda molto fredda e non vorrei che ti si piantasse, quindi con calma te la porti, ok? Bene, te l'appozio qui, prima di passare a un trattamento rinfrescante vorresti anche uno snack? Ok, sì, a me magari dopo, d'accordo, va bene, adesso passiamo al trattamento per il trattamento ho due opzioni per te, entrambe ghiacciate, una letteralmente allora, posso proporti questa maschera? all'acido ialuronico e anche un effetto proprio freddo sulla pelle questa è stata in frigo fino ad ora e quando viene applicato proprio effetto rassodante senti proprio che la tua pelle si rapprende un attimo, nel senso si tonifica come quando appunto hai il contatto con gli ghiacciati che hai un po' questo effetto e molto piacevole sulla pelle però vado a proporti anche un trattamento, diciamo, nuovo che hai con questo oggettino qui questo viene diretto, diretto dal conservatore lo faccio vedere lo faccio vedere questo è un roll fatto di piazzo questo è un'acqua con all'interno anche del gel d'aloe non è solo acqua non è solo acqua per tenire un po' la pelle e anche acqua di cetriolo questa praticamente andrei a pian piano passartela lungo tutto il viso e devi dirmi se è troppo o se è piacevole per te e anche sul col è proprio un effetto tonificante non che è piacevolissimo questo caldo, sì ok allora in realtà adesso te lo avvicino un attimo così per farti sentire il fresco perché se lo avvicini molto alla pelle senti proprio questo venticello fresco che viene dal ghiaccio stupendo ok lo senti? sì sì è stupendo adesso dimmi vuoi provare o facciamo la maschera? vuoi provare? lo sapevo, lo sapevo allora se vuoi chiudi gli occhi, se vuoi i tendi aperti ok ok mi avvicino un pochino e dimmi se cominci a stare un po' troppo per te ti preoccupate, dimmi tutte le sensazioni, ok? ok ok cominciò nella terra pronta è tutto adesso comincio a andare leggermente su fronte e sopracciglia sopracciglia e l'altro sotto gli occhi però qui lungo e vicino agli occhi sul naso ok e adesso vado intorno alle labbra e sulle labbra intorno e vedrai anche le tue labbra più tonificate questo labbra l'effetto è stupendo si e adesso vado un pochino un po' in questa zona dentro le orecchie in questo mondo e vado anche un pochino qui sulle clavicole ok perfetto come vedi il ghiaccio si sta già un po' sciogliente sicuramente ti sentirai un po' il viso bagnato perché appunto il ghiaccio a contatto con la pelle si scioglie come ti sembra? ti è piaciuto? ti è piaciuto? per l'altro per l'altro trasatto e vado a fiarlo e passarlo sul tuo viso ok 3 3,2,1 Senti l'aria freschissima su tutto il viso Senti come l'acqua del ghiaccio si sposta e va a creare un effetto di fresco su tutto il viso anche sul collo sulle spalle sul petto e adesso se posso lo passo un attimo anche a me che è veramente caldo ok? tu intanto come stai? bene ecco un attimo anche a me e questo me lo porto sempre in borsa l'estate così che quando proviamo caldo 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 mi devo asciugare, lo utilizzo un po' spero davvero ti sia piaciuto com'è il iced coffee? benissimo, lo sapevo che ci sarebbe piaciuto tantissimo vedete che nel bevuto c'è un po' attenzione con calma con calma, con calma, con calma ultima cosina che voglio fare per te prima di lasciarti andare a lasciarti godere questo fresco in santa pace voglio fare una cosa che in realtà mi andrà a rinfrescarti prima andrà a profumarti e a farti sentire questo odore ed è stato incredibile ok ok allora annusa guarda com'è dentro questo è uno scrub al passion fruit ok 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 l'odore è così è pazzesco secondo me si sente proprio in tutta la stanza e volevo un attimo applicartelo sulle mani in modo che ti rimanga proprio l'odore questo scrub non secco questo scrub non secco quindi non ci sarà bisogno di trattare ok allora aspetta un po' se ne metto un po' qui ok e un po' qui ok e un po' qui e un po' qui e adesso vado a fare lo scrub tap da me pure la mano l'altro ok, perfetto adesso prendo un panno e te li asciugo ok, vieni qui molto bene senti come le mani sono morbidissime ovviamente nello scrub c'è anche un po' di olio quindi sono anche belle idratate veramente è un effetto stupendo secondo me io spero davvero che questo trattamento anticaldo ti abbia rilassato, ti sia piaciuto ti abbia rinfrescato totalmente io ti mando un bacione e io penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio 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 si è aggiunta all'ora di abbassare le luci quindi Buonanotte, buonanotte, sunnitor, good night, sweet dreams, buenas noches, dulces sueños, buon nuit E' il grotto, il grotto, let's enjoy your health, good night, le canoste, buon attimo i pastiggini al caffè, un bacione, un bacino agghiacciato, che li spera Grazie